Shipshifter c'è la spot Forse si Shipshifter Ok si può fare Shipshifter, si può fare Preserver Si può fare Scholar Si può fare Warrior Warrior Don't worry, I got this Io non lo so come stiano andando Gli altri Eh potrei anche GQ3 Scholar Però Ok Prendere Warrior Preserver Oh vediamo cosa esce Grazie 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 Ah questo ha messo Preserver No, Warrior Preserver si può fare però non è così broken alla fine Non sembra grave Exterminate Eccerminate Who's that? Ah, questo va a Shapeshifter E quello è andato a Scolar Portal non esiste che io vada Portal Multistriker no, Hunter no O Shapeshifter o Preserver Mi vado a battere contro uno di loro E che Scivana 3 come la facciamo? Forse è meglio veramente Dare Karma con Preserver Una goccia Vediamo il bastone magari Vediamo se riusciamo a prenderlo Va bene Andiamo a Preserver Una Cassiopeia non esce Allora facciamo Brazilian Bard Fiora Gwen Karma Rakan Questa è la comp Basta Cassiopeia che non esce Grazie a tutti Serve il mantello per fare Preserver Non ho neanche un Preserver Non ho neanche un Preserver La comp è perfetta per andare a Preserver Sicuramente La comp è iniziale Questa non ci piove Serve solo una Cassio al posto di Egarim Gwen Oddio questa è La prova che stiamo andando Giusti Incredibile Davvero incredibile Grazie a tutti Eccola Perfetto Ora sì Ora ci siamo Potrei chiudere bastone Guantone Non lo so E' scomplicated Gli temi sono Quello che sono Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Facciamo così Ma questo è un altro Scholar Questo va ShapeShifter Questo è il nostro rivale Preserver Speriamo ce ne sia uno solo Vedremo 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 E' un problema che non sto vedendo Né Zilean Né Bard Nessuno Quasi Quasi Straperde Altronde Gli item Sono Quello che sono E' un problema che non sto vedendo Non la vedo benissimo Non la vedo benissimo E' un problema che non sto vedendo Boh Prenderei più ora Eh Buonanotte Ah è vero Devo prendere il mantello Per preservare Giusto Non ho ricordato Anche se potrei chiudere Bt con quello Però Mamma mia che schifezza Siamo al set Su Va bene Vedremo che item escono dopo Buono Buono Come on bro Questa è trovata Questa è trovata arcana Ficendo arcana scholar No Si Probabilmente si Questo perché sta Ha l'emblema Preserver Ma non sta andando La nostra comp Non sta Non sta Sta facendo Qualcos'altra Forse Boh Chiliamo quella Ari per favore Vedo mai E' perso E' perso da tutti Diciamo Facciamo cazzate Devo andare All'otto Vabbè Cassio La chiudo Basta con queste spade Mamma mia Mamma mia Allora Via 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 Oh Bello il mantello Restiamo così Vediamo Bt Su Gwen Spade Spade armor Ma in realtà Sarebbe meglio Su Su Fiora Potrei fare Spade Bastone Vediamo chi chiudiamo Prima Riusciamo a chiudere Qualcuno Ovviamente Altrimenti Chiudo bastone E guantone Spade armor E sti Cazzi E mi sa Che farò Così E Rabata Non arriva Raga Direi di no Questo Direi che ci sta Pennello Witchcraft no Infiniti Dai Lo mettiamo qua Livelliamo Milio Bro Com'emilio Assurdo Abbastanza Assurdo Preserve Chi ce l'ha Scusa Ah ce l'ha Cassiopeia Togliamolo E lo mettiamo Su Oddio aspetta che c'è Milio Ci dà l'item Quindi probabilmente Non lo mettiamo Magari facciamo Allora io riforgerei l'armor Sì Una fiora no Vero Oh io sto chiudendo il più possibile Mi rendo conto che chiudere tutto sarebbe impossibile Servirebbe Morgana per fare il quinto Preserver Morgana non c'è Un mantello e chiudiamo BT anche su Oddio c'era Morgana Sì vabbè dai mi chiudo BT lì Diciamo che il karma può arrivare anche dopo l'item da Milio Non è un problema Ecco così non è male Non è affatto male Ah Oh my god Probabilmente toglierò anche doppia goccia la Dima Gwen Non lo so vediamo Posso mettere al posto di Blitz Ecco ecco Questa parte su di lei Senza ombra di dubbio Ci ho sperato Ci ho sperato Magari esce Magari esce Mannaggia Manca solo Fiore in realtà E Morgana ovviamente Oddio No non perdere bro Grande Molto bene Molto bene Molto bene no perché siamo a 33 punti vita Però calcolando che il terzo ha 34 punti vita Voglio dire la top 4 si potrebbe fare Il livello 9 probabilmente no Ma a noi basterebbe in realtà una Morgana Qui E sti cazzi Briar Cioè che posso fare Tanto Briar alla fine non c'è Semplicemente una unit buttata lì per Per potenziare in questo Non chiude nessun tratto Lo chiude ora perché c'è Nico Serve Morgana che ci fa Witchcraft E Preserver In attesa mettiamo Nico E guantone goccia Caccio Caccio Facciamo così e basta Non è male Non è assolutamente male Potremmo provare ad andare al 9 Volendo Però la vedo veramente difficile Serviva Morgana Serviva Rakan Al 2 Però alla fine noi Diciamo i nostri cavalli vincenti Ce li abbiamo Fiora Gwen E Karma Servirebbe un item in più su Karma Adesso magari lo troviamo al carosello E poi Emilio penserà A resto Quasi vince Andiamo a Vetti Gold La Morgana dal futuro Potrebbe arrivare Preserve Breer Morgana Come sta andando l'altro Preserver Il primo Ha fatto Porca miseria A essere primo Sta comp Spiegabile Come fa a essere primo Come fa a essere primo Pff Giù Dai andiamole a immaginare Emilio dai un altro item Per favore A Karma tua Bravo Sti cazzi Ma 30 gold Ottimo Forse Gwenso Ah che devo prendere Forse questo Lo Shred Vabbè Che lo davo A Rakan Ah è vero Potevo prendere l'item Vermilio Stupido Vabbè diamo questo A Rakan Ah è vero Se dovessimo mettere però Poi Emilio Ci potrebbe stare Cioè si Emilio Breer Ci sta questo Sì si va bene così Eh purtroppo non abbiamo trovato nessun item per Per Karma Siamo passati al primo posto Grande Oddio Warwick 3 Pesante Forza Forza Emilio Oh cazzo Oh cazzo Non lo so Non penso proprio Mamma mia Questo non ha nemmeno usato la padella Pazzesco Mi rifiuto di prendere Zilean O no Vabbè prendiamolo dai Tanto Un altro round Noi resistiamo Poi andiamo al 9 Dritti dritti Al limite Mettiamo Shape Shifter Che devo fare Me la tengo 9 portal Perché ho 9 Non ho 8 Così chiedo Non penso che ci possa battere mai Rise all'1 Troppi pezzi all'1 Va bene così La top 3 fatta Bene Zilean chiuso Un bel item per Per karma serve No Potevo tenerlo Ok Posso credere di non trovare Una Brier Rakan Questo lo teniamo Oddio Sono forti eh Sono molto forti Non credo di batterli Il Nasus sembra al 3 Di quanto è grosso Porca miseria Dai dai rega Dai Dai Bardone Confido in te Ulta Bravissimo Era una copia raga Una copia Adesso ci fa Ci distrugge Porta il game Ovviamente Una morgana Servirebbe Dal nulla Ok dai rega ce la facciamo è nostra è nostra buttatevi sul nemico brava brava così ancora ancora bravissima top 2 fatta vediamo se quello esce no ha perso contro il nostro ghost assurdo gg